Internet ha rivoluzionato il mondo del turismo, banalmente partendo dalle prenotazioni online, che so, di un biglietto di un treno tradizionale o di un aereo tradizionale inteso come offerta, sino ad arrivare ai viaggi organizzati solo su internet da aziende che non hanno quasi fisicità e presenza online, passando attraverso l'intermediazione che non c'è più ma in realtà a volte cambia. Ci sono nuove forme di intermediazioni. Di tutto questo ne parliamo in questa puntata di DigiTalk. Sigla. Chissà quanti di voi hanno passato le scorse vacanze, le ultime insomma, in giro per il mondo con viaggi organizzati attraverso internet, attraverso gli operatori, sempre di più. Grazie all'arrivo, insomma, alla nascita in questi ultimi anni di nuove forme di organizzazione di turismo online, oggi i prezzi sono un po' scesi. Ma questo a volte è a scapito della qualità. Certo che i nostri operatori, la maggior parte, offrono servizi comunque perlomeno equivalenti a quelle, insomma, del mondo tradizionale, di quel che era il turismo, l'organizzazione del turismo, prima dell'avvento dell'online. Insomma, che se ne dica di cose negative, insomma, ce ne sono un po' dappertutto e quindi anche quando sentite parlare magari di cose che non funzionano grazie a nuove tecnologie, a volte sono i luddisti che cercano di spegnere la tecnologia, o comunque sono un po' spaventati, scherzi a parte, dalle novità. In realtà volare, viaggiare, prenotare via internet è molto sicuro, noi poi di Digital siamo pro il mondo digitale e questa sera cercheremo di scoprire qualcosa di più, grazie ai nostri ospiti che ora vi presento. E sono Gabriele Cucolo, che è direttore responsabile di Rifletto, che è un mensile di meteorologia e turismo. Giovanna Garlati, Brand and Communication Manager di LastMinute.com Italia. Adriano Meloni, che è amministratore delegato di Expedia Italy. e Angelo Ghiliano, che è direttore turismo di Dreams. Ecco, io vorrei subito chiedere ad esempio a Gabriele Cucolo, che avendo, insomma, questo mensile di meteorologia e turismo, che tra l'altro è interessante perché vedere insieme i due mondi fa pensare, per esempio, molto simpaticamente a un turismo che quasi senza meteorologia incomincia a perdere gran parte, no? dell'andare ai tropici e beccarsi la pioggia, andare a sciare senza neve, è un grosso problema. Ecco forse perché. Ecco, com'è oggi il mondo dell'online dal punto di vista di un editore, di un giornalista come lei? Beh, la particolarità nostra sta nel fatto sicuramente di aver scelto il web all'inizio, di essere partiti su web e non su carta, come tutti gli editori fanno. Forti del fatto che negli ultimi mesi, in particolar modo, sia il mondo che il Daily Mirror hanno raggiunto il break-even su web per la prima volta due grandi quotidiani europei. Quindi, forti di questa informazione, abbiamo deciso di convertire su web e partire su web con l'avventura a rifletto. Ecco, bene, adesso noi torneremo spesso da Gabriele Cucola a chiedergli opinioni perché qui invece abbiamo tre operatori del settore turistico che ci diranno, ci racconteranno insomma il loro punto di vista che ci aiuterà ovviamente a capire qualcosa di più. Ecco, Adriano Meloni, ad Adriano Meloni di Expedia Italy voglio chiedere, ma come sta cambiando il ruolo dell'intermediato, cioè dell'intermediatore, insomma dell'agenzia, dell'agenzia tradizionale che incomincia oggi a avere qualche difficoltà. Non sono gli unici intermediatori che a causa di internet tremano un pochino. Ma cosa sta succedendo? Diciamo che le difficoltà che stanno attraversando le agenzie tradizionali non è prettamente legato all'internet. Ci sono vari fattori, uno dei quali è l'abbassamento delle commissioni dalla parte delle linee aeree, secondo è stata l'inflazione di agenzie di viaggio negli ultimi anni seguito alla liberalizzazione delle licenze di agenzie di viaggio che ora sta avvenendo una piccola correzione, terzo la distribuzione online tramite sia le agenzie di viaggio sia i vettori in diretta. Se pensiamo agli Stati Uniti dove un terzo dei viaggi sono venduti online, di cui la metà tramite agenzie di viaggio online, l'altra metà tramite direttamente i fornitori come le linee aeree e cateniali belghiere. Quindi sì, sta cambiando. Nei Stati Uniti sono avanti rispetto all'Europa e all'Italia. In Italia poco più dell'1% del turismo viene venduto online, però in forte crescita. Senta, io voglio già che hai la parola. Voglio chiederle, ad esempio, Lion Air è una delle prime compagnie europee, mentre all'Italia sappiamo tutti in che crisi sta passando. Ma il futuro è la rete? Diciamo che la rete è il mezzo di distribuzione più efficiente per una linea aerea e il prodotto turistico in particolar modo. Per questo abbiamo visto che i vari low cost, Lion Air, Easy Jet, se si volare web e My Air italiane, hanno scelto questo canale per ridurre i costi di distribuzione. Quindi la rete sicuramente avrà un peso sempre maggiore nel futuro del turismo. Ecco, cosa consiglierebbe l'Eda l'Italia? Sicuramente di spingere il loro sito per distribuire, assolutamente, e credo che lo stiano facendo. Sì, lo stanno facendo. No, no, lo stanno facendo, hanno una forte presenza online. Io ovviamente ne facciamo una questione un po' più ampia, no? Cioè come scelta... Ma diciamo, i low cost cosa hanno fatto? Hanno ottimizzato ogni punto della loro azienda. Quindi a partire dai pasti in volo, a partire dal servizio, a seguire dai pezzi di cambi, la benzina. Ogni singolo componente del loro bilancio è stato ottimizzato. L'Italia, per delle ragioni storiche... Ha difficoltà a farlo. Ha qualche difficoltà, penso che se ne accaverà. Tanto più che noi abbiamo presentato sul rifletto anche l'idea di Lion Air di ottimizzare è l'utilizzo dei cellulari in volo per la prima volta. Quindi chi vola sul Lion Air potrà utilizzare il cellulare e oltretutto potrà forse volare gratuitamente grazie all'esistenza di casino. Bellissimo. Sugli aerei. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Poi in Italia siamo storicamente in questo senso un po' chiusi, no? Nel senso che scommesse, se non sono di stato, sono vietate, eccetera. Il casino volante è davvero qualcosa di eccezionale. Ben, io non avevo mai sentito parlare, probabilmente mi sono perso questa comunicazione. Se ne parla da un po' forse? No, però noi ce l'abbiamo sul sito e devo dire che funziona benissimo. Masmino.com è 360 gradi tempo libero. Abbiamo anche recentemente aggiunto queste parti di casino online. Dove si vincono viaggi? Sì. Si vincono viaggi. Molto bene, molto bene. Si vincono viaggi e funziona benissimo, tra l'altro una delle coriore. Però c'è una cosa che volevo aggiungere su Alitalia, o comunque sul futuro delle compagniere, che sicuramente è quello che all'estero sta già succedendo in Italia un po' meno, il fatto di andare online, perché sicuramente appunto i costi di intermediazione vengono abbattuti. E soprattutto vedo una cosa che rispetto, lo vedo con i miei colleghi spagnoli, noi abbiamo il nostro sito in tutta Europa e anche in Spagna. in Spagna vendono moltissimi voli, perché la compagnia Liberia fa dei voli a delle tratte nazionali, a prezzi veramente incredibili, si dà 30 euro per andare a Madrid, insomma cose che Alitalia ancora non fa. Per cui magari ci sono anche delle politiche di prezzo che potrebbe appunto... L'Italia è un po' appesantita insomma da questioni che sono più nazionali, no? Beh certo. Infatti la risposta era certamente, poi era già aperta. Ecco, Angelo Villiano, quali sono, ci sono degli standard di qualità per il turismo online oggi? Sicuramente sì, a partire dai sistemi di pagamento, che naturalmente devono prevedere una qualità e dei sistemi di sicurezza nel passaggio dei dati relativi alla carta di credito, alla scelta o alla selezione dei partner con cui si lavora. Probabilmente il settore o la parte del turismo che noi vendiamo, che è più soggetta alla qualità o più influenzata alla qualità, è il pacchettizzato, ovvero i pacchetti che vengono rivenduti da noi o composti da noi nell'assemblea di diversi elementi, e la parte relativa alla disponibilità o alla vendita di alberghi, perché il volato di linea riflette poi quella che è la sicurezza o le normative internazionali per quanto riguarda i voli. Quali sono oggi i servizi più richiesti, le mette, più che le mette, insomma i servizi in senso più ampio, più richiesti oggi sull'online? I voli fanno la parte da leone, sicuramente, seguiti dagli alberghi e dai pacchetti turistici. Ci sono delle ragioni che sono in parte determinate dai limiti, imposti dalle stesse carte di credito. Noi vendiamo online, è chiaro che si vende difficilmente qualcosa che supera il limite di spesa della carta di credito, in parte perché si vende online meglio un prodotto che è in sé, tra virgolette, banalizzato, ovvero che non ha degli elementi che difficilmente possono essere resi da pagine online. Quindi il pacchetto turistico o la meta più leisure è tipicamente qualcosa che richiede la valutazione della struttura, degli elementi, della spiaggia, delle camere. Quindi ha molte più complicazioni rispetto alle altre due tipologie di prodotto di cui ho parlato. Adriano Meloni, ma oggi come fa un piccolo albergo, per esempio, a entrare nel circuito? Perché sono un po' specie i piccoli, sono sovraattaccati, sovrainformati da mille aziende che li vogliono coinvolgere, li fanno pagare i fidi d'ingresso, ma in realtà cosa dovrebbero fare? Loro hanno oggi liberato la scelta, l'internet ha aperto grandissime potenzialità per gli alberghi, perché fino a poco tempo fa non riuscivano a distribuire attraverso molti canali, avevano i GDS, se stessi e basta. Oggi noi mediamente ogni settimana riceviamo circa 300-400 richieste di affiliazione dagli alberghi. Loro, ovviamente, non li possiamo accettare tutti, abbiamo, mediamente aggiungiamo una ventina a settimana, prendiamo la possibilità agli alberghi di promuoversi a livello mondiale. Un albergo che viene sul nostro sito e appare su tutti i siti del network, quindi negli Stati Uniti, Canada... Una curiosità che ho sempre avuto, io quando cerco, magari se devo fare un viaggio, eccetera, per piacere, l'organizzo attraverso siti come i vostri, mentre quando cerco un albergo, in genere parto con un normale motore di ricerca e raggiungo il sito dell'albergo. Ora, come modello economico, come si può ottenere questo? Cioè, come può l'albergo essere intermediato quando in realtà è raggiungibile solo con una semplice ricerca sul motore? Sicuramente è raggiungibile con una semplice ricerca. Le grandi catene sicuramente hanno sviluppato delle piattaforme di promozione molto articolate e avanzate, mentre nello specifico in Italia la maggior parte dei alberghi sono dei piccoli alberghi che non hanno tanto la nozione della promozione online e quindi si trovano svantaggiati, diciamo, in questo senso non avendo i capitali per investire, perché per fare un sistema di promozione non è da poco. Quindi noi abbiamo un doppio ruolo, uno di distribuirli, due in Italia nel caso specifico di istruirli, perché ci sono quello che si chiama yield management nel gergo della professione che aiuta loro a massimizzare i loro introiti e quindi attraverso Expedia loro riescono proprio a massimizzare tutti i loro introiti, quindi sono molto contenti di lavorare con noi, sia per i volumi che li possiamo mandare, perché a livello mondiale sono circa 100 mila per una azione al giorno che passano tra me e Expedia per quanto riguarda gli hotel, e sia per quello che possono imparare tramite noi per massimizzare i loro introiti, quindi anche se ovviamente ci devono pagare una commissione per vendere tramite noi, sono comunque alla fine del giorno avvantaggiati. Poi la libero dalla pressione delle mie domande, ma sono aggiornati, come fanno i piccoli, un'altra mia curiosità che mi auguro sia anche dei telespettatori, a rimanere aggiornati con una sensazione che ho io, ma che so, che ha anche l'utente, poi medio, è quella di entrare in un sito, è un po' una barriera poi culturale, no? Vedere che c'è un certo numero di stanze libere e non essere certo che questo poi corrisponda a realtà, e allora telefona e mi dice, aspetta, ma è sicuro, ce ne sono sempre due, a volte corrisponde, a volte no. L'utente medio? Sì. Ovviamente quando si trova... Cioè i dati sono aggiornati in sostanza. I dati sono in tempo reale. In tempo reale. Quindi quando si prenota è una prenotazione garantita. Perché l'albergatore, insomma l'operatore ha il... Ha un extranet, e quindi carica disponibilità nel nostro sistema, o noi abbiamo, forse siamo l'unice di averlo, è un Direct Connect, quindi una connessione direttamente legata al sistema di prenotazione dell'albergo, che permette che un aggiornamento che viene fatto nel loro sistema, viene automaticamente messo in Expedia. Quindi non devono andare sul nostro sito per aggiornarlo, che è un onere per loro. Gabriele Cuculo, cosa vuole oggi un... Voi ovviamente sapete bene, o perlomeno cercate di saperlo, che cosa vogliono gli utenti nel settore turistico, perché scrivendone oggi cosa cerca il... La certezza, la sicurezza, la tranquillità. Ecco, hanno parlato tre persone che stanno ad indicare proprio la finalmente arrivata sicurezza che possono esprimere nei confronti degli utenti. Gli utenti finalmente sono certi di avere un servizio che alla luce di questi sistemi ormai all'avanguardia è certo, è sicuro, quindi i soldi sono ben spesi. Cioè vuole sicurezza quindi l'utente. Esatto, esatto. E per quanto, anzi, questa domanda ve la faccio dopo la pubblicità. Neanche un minuto e torniamo in studio. Vedi l'erba Senti il vento Vedi il mare Senti il sale Vedi i bambini Senti le risate Nuove stampanti Epson Foto Foto da vivere Non solo da guardare Mamma 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 Vieni Guarda Parla già È iniziata una nuova era Vuoi che ti dia qualche informazione? Il nostro sito Parla Speakage.com The new age of the spoken web Grazie di essere ancora con noi Allora, io voglio chiedere a Giovanna Garlati di LastMinute.com LastMinute.com Mamma mia come l'ho detto male Voi non fate solo LastMinute ovvero prenotazioni dell'ultimo momento con forti risparmi che poi vorrei fare una domanda su questo Ma vi occupate del tempo libero? Sì Il vostro sito? Viaggi e tempo libero Quindi tipo io un pomeriggio che non so cosa fare Ma in realtà sì cioè il concetto del nostro sito è per tre tipi di viaggio nel senso per chi parte per cui servizi per chi fisicamente va via i pacchetti i voli o il volo più hotel o comunque viaggi nel nostro senso di viaggio il concetto vero di viaggio oppure weekend tutte queste oppure per chi vuole rimanere in casa Che viaggiare è un assimoro No, per chi vuole uscire questa Viaggiare da casa solo salgari Per chi vuole uscire tipo prenotare al ristorante oppure andare a un concerto la sera andare a vedere una partita quindi una sfera di biglietteria di eventi che può comportare anche il fatto di andarsene via magari un weekend oppure anche solo una sera che comunque è un mini viaggio è uno stacco Beh, con il poco tempo che ormai tutti abbiamo Esatto, infatti è una questione esatto ha toccato il punto giusto che è tempo il tempo che ormai che su internet è la parola chiave perché credo che come tutti noi ultimamente chi non ha mai tempo per risparmiare tempo va su internet per qualsiasi cosa per cui anche per magari un servizio a domicilio noi in Italia non lo facciamo ancora ma c'è il take away in Inghilterra hanno questo servizio C'è anche in Italia ma dico voi non offrite in Italia non offriamo ancora abbiamo alcuni servizi a domicilio viaggi a domicilio ancora mannaggia non li hanno ancora inventati le porto un viaggio a casa per due ore la faccio andare e carai non è male DVD a domicilio è un piccolo viaggio un DVD è un piccolo viaggio certo è tutto quindi una serie di ottimizzazione sul tempo in realtà poi chiaramente la parte del leone ovviamente la fanno i viaggi però c'è tutta questa parte di tempo libero che è sempre atta a migliorare la nostra vita mi tolga una curiosità vediamo se so ecco il la sminut apparentemente uguale cioè prenotazione dell'ultimo momento risparmiare prendere un volo in realtà io da utente sto vedendo che si spende molto meno quando prenoti con grande anticipo qual è la differenza cosa è che non ho capito no infatti questa è una questione allora il risparmi il concetto del vero la sminut esiste sulle destinazioni pacchettizzate soprattutto per cui su quelle che hanno un volo charter ad esempio per cui il pacchetto vacanza il tour operator ha un rischio sul prodotto ha tutto il non so ha comprato dei posti che ha già pagato per cui all'ultimo minuto se ha ancora delle disponibilità e su interesse ma questo avviene all'aeroporto poi alla fine no no in realtà no ma c'è all'aeroporto si può fare un vero la sminut sono una leggenda cioè mi dicono vai all'aeroporto c'è un sportello qualcun altro c'era un'altra società è una sminut tour in realtà che non so se fa ancora questo servizio lo fanno va bene però parliamo dei nostri ospiti esatto quindi che cosa no quindi fino all'ultimo minuto sul pacchetto vacanza per cui il pacchetto con il volo il villaggio quello che è tutto è compreso si può avere questa tipologia di sconto fino al 50% mentre con i voli di linea per cui con i voli delle grosse compagniere oppure con il volo più hotel che il quello che il motore innovativo di cui noi parliamo sempre che abbina il volo e l'hotel quindi il tour operator diventa il proprio il nostro utente lì è più conveniente acquistare con anticipo perché le compagnieere hanno delle logiche di mercato che sono diverse dalle compagnie chart certo 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 è d'accordo angelo ghiliano abbastanza perfetto benissimo molto bene ecco Gabriele Cuculo sempre per usarla come gateway come momento di passaggio verso un'altra domanda la meteorologia no è voi che ve ne occupate è importante come come dire come motivo di scelta prima di un viaggio oppure insomma ci si accontenta del tempo che si trova anzitutto non ci occupiamo di meteorologia perché facciamo i giornalisti e non facciamo i meteorologi diciamo che dobbiamo ringraziare dobbiamo ringraziare i tanti meteorologi del centro Epson Meteo che collaborano con noi e che ci aiutano a realizzare queste rubriche sì la meteorologia è importantissima per quanto concerne i viaggi e non è assolutamente detto che un utente scelga come spesso erroneamente si può pensare una giornata dal sole splendente per viaggiare molto spesso anzi si parte con delle giornate nuvolose si parte con la neve quando in realtà non la si vorrebbe anche perché anche in quel caso magari i viaggi costano meno sono più convenienti ecco noi cerchiamo nel nostro giornale di dare delle indicazioni precise sulla climatologia sulla meteorologia cerchiamo di indirizzare l'utente il lettore quindi verso il miglior periodo per viaggiare in quel determinato luogo certo certo Adriano Meloni allora premesso come dicevo già prima che noi siamo pro tecnologia eccetera sappiamo bene lo abbiamo scoperto grazie ai nostri ospiti che rubare una carta di credito è più facile che lo facciano in un ristorante tant'è che si diceva che Mitnick colui che insomma ha fatto quello che si è appropriato di più di entità di chiunque altro lo ha fatto poi usando mezzi tradizionali dopo l'ha sfruttato attraverso la tecnologia internet eccetera ma i numeri di carta di credito via voglio dire penna, carta, copio, fotocopio e le altre azioni via telefono ecco questo lo abbiamo per cui premesso questo tuttavia in tutti i mondi esistono le fregature no? allora siccome si ha paura delle fregature online come evitarle? diciamo ha toccato il punto giusto che la maggior parte delle fraudie vengono dall'offline che magari vengono poi usate questi numeri online cosa stiamo facendo noi nello specifico per evitare questa cosa qui? abbiamo una squadra di nove persone che gestiscono proprio questo comportamento fraudolento ci sono delle statistiche che ci aiutano a capire che tipo di transazione è fraudolente penso che tutti i nostri amici qui usano le stesse tecniche per capire se certi valori vengono superati certe tipologie di comportamento sono volevo fare la stessa domanda d'Angelo Ghiliano anche noi utilizziamo abbiamo un sistema interno statistico che ci permette di individuare prima che la carta di credito venga utilizzata quando è probabile che sia una carta clonata o comunque una frode noi blocchiamo in genere in media il 5% delle prenotazioni che potremo transare tranquillamente le facciamo al telefono telefonando i clienti accertandoci proprio per evitare questo tipo di comportamento ma carte di credito a parte è stato interessante parlarne non mi fraintendete solo che oltre alle carte di credito la paura ad esempio di una destinazione che poi non è esattamente quello che ci si aspettava si pensa nell'immaginario che per esempio la vecchia agenzia con la quale c'è un rapporto umano e la maggior parte della gente ancora è abituata a questo racconti la destinazione come se in realtà anche loro hanno appreso tutto da dei cataloghi sono solo magari a volte dei bravi venditori tuttavia come si fa insomma a evitare come riconoscere oltre ovviamente a rivolgersi ai presenti ad altre serie e compagnie ma come riconoscere come evitare insomma le fregature dicevo appunto carta di credito a parte ma guardi il fatto di evitare le fregature ritengo che sia essenzialmente il nostro lavoro nel senso non sarebbe corretto dire che noi proponiamo delle fregature e clienti devono trovare dei modi per evitare noi facciamo una selezione prima di caricare sul sito un determinato prodotto quindi gli utenti devono stare assolutamente tranquilli evidentemente a voi non esistono dei prodotti sul nostro sito ma ci mancherebbe ma guardi che mi ha frainteso io non mi riferirei mai ma insomma sono 60 puntate non me ne sono mai permesso di dire una cosa di genere direi certamente oggi non mi riferivo certamente a lei spesso i nostri ospiti ne sanno così tanto e voi in questo caso siete illustri in questo settore e conoscete a fondo di cosa si tratta che danno sempre dei piccoli consigli allora siccome non tutti sono così professionali come voi chiedevo se magari potevate aiutarci a spiegare a togliere le paure da chi le ha sicuramente posso no grazie sicuramente scegliere innanzitutto un player che è famoso rinomato che ha una certa credibilità come sicuramente cioè le nostre società hanno in questo momento per cui come dicevo la selezione viene già fatta a monte e poi leggere con attenzione il prodotto che si va a comprare questo soprattutto nel caso di leggere le caratteristiche sì perché credo che tutti i nostri siti mettano soprattutto nel caso dei pacchetti vacanze che come dicevamo prima è il prodotto più difficile da vendere online perché si vuole sempre la rassicurazione del contatto umano per avere maggiori informazioni che non necessariamente poi come dicevo prima sono vere perché magari il ragazzo all'agenzia ne sa meno di me però però racconta bene che ci sono le parme che ci sta bene ci si diverte per cui leggere sicuramente le schede sono tutte accurate e contengono tutte le informazioni necessarie tra l'altro ci sono anche le informazioni meteorologiche anche da noi tra l'altro se uno vuole vagamente avere consigli anche sul tipo sulla stagionalità consigliamo anche se è il caso di non andare perché la stagione delle piogge perché magari abbiamo uno vede il Kenya che costa poco e magari la stagione delle piogge però chiaramente diciamo il periodo sconsigliato dove andare questo perché mi sembra trasparente per cui sicuramente online per lo meno quello che faremo noi che stiamo già facendo è sempre un'azione di trasparenza essere più trasparenti possibile dove le descrizioni sono fondamentali per cui leggere chiaro per un volo uno capisce quello che non è che c'è da leggere ma su un pacchetto vacanza è importante volevo chiarire infatti questo giustissimo quello che ha detto ma la cosa importante non è soltanto avere le previsioni del tempo ma indicare la micrometeorologia cioè indicare in quel determinato luogo e quindi in distanze ovviamente microterritoriali che cosa possono trovare che se piove solo su quell'albergo e sul resto no c'è il sole però infatti perché poi magari la gente guarda molto spesso il prezzo soprattutto su internet spera sempre di risparmiare però magari non si viene conto che appunto magari va in Tunisia a dicembre e spende 200 euro però è chiaro che non può fare il bagno quello che diceva lei prima giustissimo infatti volevo rispondere che oggi uno dei problemi che forse loro per la loro serietà non hanno è che i tour operators oggi ancora oggi consigliano di viaggiare a Natale a Gennaio di andare a New York e magari chi arriva all'aeroporto Kennedy in New York trova 80 cm di neve e rimane bloccato e rimane bloccato in pieno agosto a Miami con le zanzare che ti mangiano ecco allora Adriano Meloni una domanda ancora un'altra mia curiosità tanto per cambiare purtroppo ne ho tante ma spesso cerco come dicevo di interpretare quelle dei telespettatori ecco allora la tecnologia del virtuale è già molto diffusa esiste in varie forme io spesso veramente sento la mancanza ad esempio di un tour approfondito della stanza d'albergo che troverò nel posto dove ho prenotato e quando è che incominceranno ad avercela un po' tutti questa possibilità noi ce l'abbiamo non in tutti gli alberghi insomma non tutti però piano piano stiamo aggiungendo ecco perché la presenza virtuale è importante è fondamentale perché abbiamo attaccato al mercato delle hotel proprio con questa ragione perché andando in una agenzia tradizionale non si hanno delle informazioni visive adeguate quindi abbiamo visto che più informazioni si danno sulla camera sull'albergo più la gente è disposta a prenotare più è disposta a prenotare certo l'ideale è di avere proprio il tour virtuale e noi lo abbiamo in circa 3.000 dei nostri hotel quindi può vedere sì la foto deve una camera però anche il tour virtuale del lobby del ristorante del bar molto importante anche perché esperti di comunicazione sono passati da digital che io parlo sempre per insomma quel che mi riferiscono i nostri ospiti ecco l'utente anzi il pro user il pro utente quello che decide era abituato proprio come modo di comunicazione ad avere il Deplian con una foto che tanto sapeva essere finta quindi arrivava ormai pronto ad aspettarsi cose diverse invece oggi si vuole quello che si vede si sta trasformando sempre di più l'approccio dell'utente quindi si cerca di si desidera e si pretende che quella foto sia corretta questo purtroppo succede ancora in Italia e chi va a Napoli pensa di trovare un pino che è stato abbattuto vent'anni fa vabbè magari uno dice il pino tour nel senso difficile che va però insomma su cose più grosse certamente sarebbe un problema se si ecco va bene allora io ringrazio Gabriele Cucolo per essere stato con noi ringrazio anche Giovanna Garlati ringrazio anche Adriano Meloni e Angelo Ghiliano per insomma tutti per averci dato un pezzo nei nostri 30 minuti di punto di vista insomma chiaramente molto illustre per su quello che è oggi lo stato delle cose nel turismo online io vi ringrazio vi saluto ci vediamo la prossima settimana come sempre ci trovate la sera su Satellite alle 23 ci trovate tutti i giorni quando volete su Digital.tv e la stessa cosa sul mobile sulla televisione di Team UMTS grazie buona serata e ci si vede settimana prossima buon fine settimana e ci si vede